Al termine di questa partita siamo con Ligollari, Bertoncini e Goli, vi chiedo un commento alla fine di questa partita. Per voi è stato l'esordio, quindi vi chiedo com'è andata e poi passiamo la parola al mister della Montagnola. Dicevo con lui prima, sono contento perché abbiamo fatto i primi 20 minuti senza sfigurare, poi ovviamente loro sono un altro pianeta, una squadra nettamente più forte. Tutto sommato, la partita è correttissima, va bene così, siamo qua per divertirci. Guarda davanti il tuo giorno. No, no, no. Non so bene, va bene, la squadra è già... No, 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 no. No, però io vi sto approfitto di questa intervista per fare complimenti al nostro presidente che comunque è stato lui l'opera di tutta l'organizzazione, di tutto l'impegno che si ha presto a Luca Busi. Niente di più sul campo, quando è capitano, c'è più esperienza, ma da parte della dirigenza un grazie a Luca e tutto il lavoro che c'è stato dietro perché ad oggi noi siamo qua, essendo nuovi, penso che lui lo sa. Sì, l'abbiamo detto prima, infatti, va bene. Vuoi aggiungere qualcosa, mister? Io? Sì, sì. Scusa. E intanto, va bene, è stata, dico subito, è stata una partita correttissima, quindi faccio i complimenti pure a loro. Come ho detto prima, le temperature sono abbastanza alte, quindi scatisco che abbiamo avuto difficoltà, nel senso abbiamo difficoltà di spendere di energie. Per quanto riguarda i resti della partita, i ragazzi si sono comportati bene, sia nell'impostazione, sia nella gestione del pallone. Speriamo di recuperare un po' le forze della seconda partita, il pomeriggio, e poi il nuovo. È andato abbastanza bene, quindi non dico niente, adesso salutiamo un baby fan. Ecco, il baby fan, il baby fan. Devo dire, va, me lo dai. Lei è la più piccola, il più grande è quello che giocava con me. Ho visto, l'abbiamo visto, infatti non abbiamo detto che sicuramente quello era il figlio. E quindi abbiamo trovato anche un avversario abbastanza disponibile, anche gentile. Grazie, ci vediamo nelle partite del pomeriggio.